aspetta dai ascolta io devo palle di bairro la palla è tirata? si si ti ho già preparato la zona, ti ho tagliavo l'erba e questo qui? stai rigocciolando un pochino Tito stai zitto non puoi fare, ma come non si chiude? se allora c'è una nuvolina che ci segue sta dietro Tito sto cercando di più di qua ragazzi oggi siamo in Bisen ciao ragazzi siamo in una zona nuova, completamente nuova che abbiamo scoperto per fortuna per caso ce la fai anche io no? e allora che ti devo dire? e quindi pescheremo in acqua bassa abbiamo visto un sacco di pesci c'è un vento bisogna riparare la lenza se la pesca con due grammi e e io vado a lanciare perché si aspetta tu steghi dopo tu steghi dopo venite un mese pesca dai A presto aspetta anche con cavalloni sono piccini sono piccini sono pesce e sonnelli che arrivi nello fa che sono sopra lì t'ho preso anche te vado a spettacolo coppiola me ma gira aspetta ho preso la punta ecco si è sganciato il mio l'ha arenato noi sarà girato la pin ma succede guarda come l'hai schiantato no la girata vedi brutta persona anche il mio onnellino vado a me le gonfie sto a mangiando ti vai buon po' si pesciotto che abbiamo in diretta lo mettiamo in diretta anche se non è una taglia importante è un nellino è un indice un nellino no di qua le andava fuori dai cibi le andava fuori dai cibi dai e gli ritornavo dietro il piede ma che matto sto pesce come se fosse uno scafo hai visto quando gli scafi poi volano? un bel pesciotto? ma ma è che te l'ha preso lontano l'ho preso a prato a prato porta serraglio un bel raglio può fare la peschina sotto gli alberi? può andare là nel mezzo? l'ho bronca dai si fa ancora un pa' di ciri qui e poi vado sotto l'albero è un bel pesce eh è che gli ha girato il filo come a me forse sulla pranchia sulla pranchia un po' meglio dai è un bel pescezzo questo è buono un po' meglio dai ecco eccolo vai vai tesoro vai a rompere i coglioni agli altri che almeno non se ne prende più abbiamo cambiato postazione di pesca siccome non ci sfagiolava stare fuori dall'acqua adesso ci siamo messi sotto le due piante e vediamo se esce fuori qualche pezzettino degli alberi Gianfra ha già preso qualche bel pesciotto e adesso ha ammirato quella pianta vediamo se la prende è iniziamo è inizia è inizia è inizia un po' più no un capitanello interessante e che gli gira intorno alla branca sembra più peso ecco fatto è un bel pesciolino oh sei slamato da sé correntino sopra perché qui se ne è presi troppi si ducazzetti cosa sta arrivando alla qualsiasi cosa e noi non si molla canne alte verso i fulmini ragazzi abbiamo visto dall'alto un gruppetto di ciprinidi e la volpe di gianfranco tenta al colpaggio si vede anche il baco da qua pescettino t'ha dato una rossella comunque lì c'è una passatina tesoro ma che bello ha tutte le bollicine falla vedere un po la rossellina ora si scende a lasciarla se no da qui si fa un tuffo perché non ti metti lì ti tira un po di baci è una bella passata questa non si è vista prima vado anche laggiù come si rigira nella orrente cazzo siamo messi nel punto sbagliato non mi dispiace per questa rossellina perché mi sto rompendo le scatoline ecco va bene tutta picchiorata non era quello che volevo ma e se pescavano il posto sbagliato finora ah c'eri te scusami non ti vedevo ce la fai al sallo? no no ce la fai e peso un l'arzo mio un po un piove neanche oh se è la mazoda solo perfetto giù e e non si molla maremma diavola che palle maremma diavola si bomela arriva oh ecco il panino sotto l'alba ahhh 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 Grazie. Grazie. Aiuto. Aiuto. Nulla. Tutto bagnato ragazzi. Ragazzi da sotto il figo è tutto. Sentimela bene. Maremma diavola. Io in attesa mangiavo l'altro panino. Non c'è niente da fare ragazzi. Non andare via. Non andare via. Siamo pratici. Siamo pratici. Siamo pratici. Amici di buona festa fa molto. Vieni dopo dirlo. No sta diventando ragazzi. Ciao ragazzi. Alla prossima. Se siamo vivi o siamo qui. Ciao. Forse smette. Forse si riamo. Se si aspetta. Se si aspetta 5 minuti. Una settimana. Se si aspetta 5 10 minuti. O se si aspetta. Sì. O com'è mai. O com'è mai. Quest'anno siamo partiti un po' in salita. Ma va bene così. Si salva. Va bene così. Non ci sono problemi. Si scavalla. Guarda qua. Guarda il cappellino. Non ci si bagna neanche. Neanche con la felpa. Ciao. Ciao.